ragazzi 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 oggi sono molto emozionato perché sto per parlarvi di un drone che rientra in una categoria che io amo alla follia quei droni minuscoli che sono in grado però di trasmettere in digitale non danno fastidio a nessuno e non crederete mai a tutto quello che ci potete fare ok si siete curiosi ce l'ho qui appunto in tasca cioè guardate che roba capite si chiama è di nano buildato ad hoc da personal drones me lo sono portato in vacanza sulle montagne ovunque veramente infatti guardate ci ho pure le labbra screpolate ci ho fatto di tutto restate con me eccolo qui ragazzi led di nano è stato buildato scegliendo questo frame che è un diatone roma f1 da 85 mm 1.6 pollici quindi vi supporta eliche da 1.6 infatti hanno scelto di montare queste gen fan 16 36 che rendono il quad versatile perché lo potete usare sia in cruising bello spinto sia in freestyle ma a mio avviso senza l'utilizzo dell'action cam perché altrimenti accusa un po il peso in più supporta il dji fpv system e qui dentro infatti vedete la caddx vista è stata resa naked però non è un naked estremo perché comunque hanno tolto uno strato in mezzo ma hanno mantenuto il dissipatore in basso e questo contribuisce a raffreddarla al meglio la caddx vista monta una camerina che vedete qui davanti protetta dal supporto in tpu che è una nebula nano che va più che bene vedrete nel dvr tutta quanta la bid supportata da questa schedina che vedete qui in basso che è un all in one quindi un'unica scheda che fa tutto che arriva fino a 25 ampere quindi state proprio tranquillissimi se lo volete spingere questo è un quad che va a 3s attenzione quindi non utilizzate da 4s io l'ho utilizzato con delle batterie che per me sono perfette che sono 450 milliampere 3s questo all in one è separato dalla caddx vista da questi gommini morbidi qui e la stessa scheda è protetta dal carbonio che vedete qui in basso da questa piastrina in non so se è la otpu che comunque la isola dal carbonio e evita cortocircuiti in caso di crash qui dietro è stata montata questa antennina microscopica 5.8 gigahertz lhcp marchiata beta fpv avete pure questo supporto per la lista 360 go 2 qui dietro vedete il cavo delle batterie che è un xt30 molto carino guardate con che qualità è stato assicurato qui dietro e ovviamente il tutto è condito con questo piccolo condensatore qui davanti è stata inserita la mini immortal t che è la posizione ideale per questo quad qui che monta ovviamente il sistema tbs crossfire quindi il range non è un problema quello che poi lo limita è l'autonomia autonomia che con le 3s da 450 milliampere in cruising io con il mio stile di volo che abbastanza spinto arrivo fino a quattro minuti e mezzo in freestyle scendo perché pure lì gli do giù con il gas e arrivo a tre minuti e mezzo quattro minuti ovviamente il cruising dovete considerare che avete anche il peso in più qua sopra della lista 360 go 2 i motori sono dei mamba toga 1103 da 8500 kv vedete la qualità è veramente ben fatta e anche spingendoli non surriscaldano sono riuscito ad arrivare a una temperatura lievemente tiepida quindi va benissimo rotazione delle eliche out quindi contribuisce a dare un migliore feeling e una migliore aderenza alle linee la rx è stata posizionata qui davanti vicino la fpv cam e al momento dell'acquisto potete decidere se riceverlo senza rx quindi alla fine ci mettete quella che decidete voi e secondo me va a nozze con lrs e l'antenna in ceramica smd oppure potete scegliere di ricevere quello con fr sky che ve lo sconsiglio oppure come questo qui tbs crossfire e state proprio pienamente tranquilli il drone così senza batteria senza supporto in tpu stiamo sui 75 grammi con una 2s da 520 miliampere arriviamo a 105 grammi circa con una 3s a 450 miliampere che è la mia configurazione stiamo sui 120 grammi quindi drone totalmente in nuoco state ampiamente sotto i 250 grammi è abbastanza silenzioso poi quando lo spingete comunque un pochettino si fa sentire poi se siete piloti che hanno un certo controllo andate tranquilli altrimenti occhio perché comunque non c'è il paraeliche e se sbattete addosso a persone soprattutto gli oggetti non sono un problema qualche feridina la potreste fare quindi sempre occhio a come lo utilizzate come sapete io amante di queste build avevo già questo che è il flywoo firefly baby quad sempre hd però vedete questo c'è alla vista completamente naked innanzitutto la posizione della batteria qui era in basso mentre qui la possiamo mettere in alto il tutto contribuisce ad avere un baricentro migliore di questo quad qui con il diatone roma f1 che vi dicevo prima abbiamo un dead cat più pronunciato quindi secondo me ancora meglio come cruiser hd rispetto a questo qui questo qui a destra è molto più esplosivo perché ha anche una scelta di eliche un po più aggressive rispetto a queste che sono un po più smooth questo un po più di autonomia rispetto a questo questo è una scelta un po più professionale per piloti che vogliono qualche cosina in più quando attaccate la batteria mi raccomando cercate di non far svolazzare cavi in giro perché questi droni qui sendo molto piccoli accusano ogni piccola vibrazione cos'è che mi piace innanzitutto il digitale cioè avere una cosa di così minuscolo e microscopico con la potenza del dji fpv system quindi ragazzi caddx vista che può sparare pure fino a 1200 mw quindi veramente penetrazione assoluta il range non è un problema perché o ci montate da soli lrs o ordinate quello con tbs crossfire andate alla grande non dà nell'occhio non causa problematiche non attira l'attenzione è abbastanza silenzioso e quindi se non fate gli scemi e i matti state tranquillissimi ho fatto chasing a dei piccoli kart dove ho ripreso figli di amici ho fatto il chasing ai miei figli su delle ciambelle che si buttavano giù ci ho fatto pure un po di piccola distanza arrivando fino a dei campanili e ragazzi c'è una cosa minuscola nessuno lo vede vi divertite veramente alla grande come tipico di questi quad qui in freestyle non utilizzatelo con le action cam perché accusano quel peso in più diventano un po dei bussolotti quando lo muovete io in freestyle mi ci sono divertito molto di più rispetto agli altri dronicos di questo formato che ho provato perché reagisce meglio purtroppo l'ho provato sempre in giornate molto ventose quindi un po di vibrazioncine la accusate però ragazzi ha un'ottima risposta non è paragonabile ovviamente a quella di un 4 o di un 5 pollici ma lui ci sta se invece volete passare in modalità cinematica un cruiser di alto livello io l'ho utilizzato con la vista 360 go 2 nessun problema di yellow ottima stabilizzazione vi portate a casa bei filmati cruising perché poi essendo microscopico riesce a entrare in ogni pertuggio possibile ed immaginabile a un costo un po elevato perché se non erro stiamo sui 449 euro quindi costa di più rispetto agli altri droni che trovate sul mercato però gli altri droni sono droni tra virgolette industriali questo invece è un drone che io considero artigianale perché sono stati scelti dei pezzi con cura la build vi viene fatta ad hoc e personalmente da personal drones se volete acquistarlo e supportare il mio canale i miei video mi raccomando utilizzate il link che trovate qui sotto in descrizione per questo video è tutto qui ancora c'è parecchio vento ma mi rimane ancora qualche lipo e visto che ho bisogno di scaricarmi adesso oggi scelgo di divertirmi in freestyle statemi tutti quanti bene e DAGIE!